fai rotolare una balla di fieno per dieci metri? oggi ero in bosco a fare la mia corsa correvo per i prati per i boschi tutto il momento ho visto una palla di fieno e mi è venuto in mente lui raga da quando corse l'ha fatto mi è venuta voglia fare anche a me vedere se si può spostare la palla di fieno vado a vedere non è facile spostarlo mi arrestano qui prendo l'incorsa mi sa che mi sto impegnando poco spero che non mi arresti nessuno ero lì da sola completamente da sola con questa palla di fieno ma in cinque secondi ha perso un eroe ci arrestano che la vogliamo e lei si che è un forte avete visto come il signore si guardava attorno era completamente disagio era completamente disagio beh adesso torna in ritorno no ben giù torna da quella così ma allora dovrei stare di qua io ti vedi? si si no ti vedo sono facile? si adesso di qua prende troppo ricorsa poi che sono sicura che anche voi avete avuto questa curiosità ecco adesso vi ho tolto si può fare potrebbe essere sembrato facile dalla camera mi assicuro che non lo è stato io volevo ancora rotolare per un po' ma mi ha fermato perché ha detto che qualche anno fa qualche genio ha fatto rotolare troppo e palla arrivato fino al paese allora mi dovevo fermare che palle però di fieno se vedete cosa combina questo ragazzo qui vi lascio il link ma il corso è più fuori di testa in assoluto e io lo seguo ciao ragazzi iscrivetevi ciao ragazzi iscrivetevi ciao ragazzi iscrivetevi al mio canale se vi va ovviamente alla prossima ho scoperto che si dice balla di fieno non palla vedere voi da dove prendete ispirazione a me a volte salta così da un momento all'altro e voilà io ho ancora in mente la faccia di signore quando l'ho chiesto di aiutarmi spostare questa balla mi sa che ho fatto fatica a credere di cose io lo sto chiedendo provate visto maschio alfa maschio alfa mi ha dato la mano ciao ragazzi alla prossima avventura